Una discarica a cielo aperto in un'area sottoposta a vincolo paesaggistico ambientale e quanto hanno scoperto i carabinieri della stazione di San Giovanni Appiro guidati dal comandante Lorenzo Brogna a Scario in località Marcaneto. Qui i militari si erano recati per un accertamento quando hanno individuato quest'area di circa 300 metri quadri dove erano stati abbandonati rifiuti di vario genere. In particolare componenti di carrozzeria d'auto, paraurti, pneumatici, cerchioni, una carcassa di un'autovettura senza motore, materiale vario in plastica, ferro e vetro, un lavabo in vetro resina, un congelatore e due barche sprovviste anch'esse di motore. Rifiuti anche speciali dunque che posti sul nudo terreno in un'area sottoposta tra l'altro a vincolo hanno finito per alterare lo stato dei luoghi creando un danno ambientale. Due le persone denunciate a una coppia di coniugi, la moglie in quanto proprietaria del terreno e il marito come esecutore materiale dell'illecito, cioè colui che di fatto ha sversato nell'area i rifiuti, la cui provenienza deve essere ancora accertata. Entrambi dovranno rispondere ora di deposito e abbandono incontrollato di rifiuti, deturpamento e o alterazione di bellezze naturali e esecuzione di lavori in area sottoposta a vincolo paesaggistico ambientale senza la prevista autorizzazione. Diverse le azioni che i carabinieri della stazione di San Giovanni Appiro stanno mettendo a segno sul territorio di competenza, in particolare a tutela dell'ambiente e a contrasto dell'abusivismo edilizio.